La magia del più grande plastico ferroviario Miniatur Wunderland è un plastico ferroviario composto da circa 16.000 metri di binari e che rappresenta diversi luoghi del mondo. La sua costruzione inizia nel 2000 con particolare attenzione all'aspetto divertente, ai dettagli e alla fantasia. Miniatur Wunderland è oggi una delle destinazioni turistiche più famose in Germania. Miniatur Wunderland Miniatur Wunderland Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.